Eikaiki, Nitakulu, Olendaniel, Yato Ivotan, Sinut, Terre, Vuleksi, Torino, Sta Ci ho provato Buongiorno ragazzi, buongiorno cari insegnanti, ciao Rico Mazzone, my friend Grazie, I'm very happy Grazie per questo incontro in cui proverete a disegnare il mio sapò Il protagonista del mio libro, Comico Satirico, dal titolo Le Comiche di Sapò Che è uscito in Italia nel marzo del 2023 per la Caravella Editrice Vi dico soltanto questo Il personaggio che ho creato ha un piede nel presente, gli anni 2020 Anche se in parte mi sono ispirato alle comiche del cinema muto Charlie Chaplin, Pastor Keaton E alla tradizione teatrale italiana della commedia dell'arte e dei giullari Fino ad arrivare a Dario Fo, premio Nobel per la letteratura Non vedo l'ora di vedere i vostri lavori Un caro saluto da Torino